Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books Io sono Tiffany e oggi sono qua per fare un rant che in realtà ho messo giù in una maniera che non sembra un rant quindi insomma ci proverò comunque ovviamente ho visto mercoledì sera l'ascesa di Skywalker cioè The Rise of the Skywalker che è l'ultimo, insomma per chi non lo sapessi quei pochi rimasti insomma l'ultimo capitolo della nuova saga iniziata con episodio 7 8 e poi conclusa con questo quindi io sono qua per fare un rant allora come immagino molti di voi sapranno se mi seguite ovviamente io sono una super super fan del mondo di Lucas e non solo insomma del mondo di Star Wars ma sono anche soprattutto molto critica di tutti i progetti che vengono diciamo dopo il 1985 ok, detto ciò però in realtà devo dire che ci sono stati alcune cose che a me sono piaciute invece molto come ad esempio la produzione di alcuni, alcuni volumi di libri tanti fumetti e soprattutto secondo me tra i prodotti migliori io non gioco quindi non so dirvi la parte videogame ma dal punto di vista invece secondo me narrativo due delle cose migliori uscite sono le produzioni di Clone Wars e di Star Wars Rebels secondo me sono le cose migliori proprio uscite di recente e vi consiglio di recuperarle in ogni caso io sono qua per parlare dell'ascesa degli Skywalker e già ho perso troppo tempo perché non siamo qua per fare altro vi chiedo solo di una cosa insomma di essere rispettosi se non la pensate come me queste sono le mie opinioni, i miei pareri ciò che sento io, ciò che penso io della saga ma in generale insomma di tutta l'epopea degli Skywalker se avete un'opinione diversa tranquillamente insomma ne parliamo tranquillamente mi raccomando con rispetto delle opinioni altrui ovviamente queste sono le mie opinioni e per quanto io abbia sempre ragione comunque rimangono opinioni quindi se avete un parere contrario esprimeterlo in una maniera pacifica e sensata Star Wars spesso ha un fandom molto tossico e molto aggressivo e questa cosa a me non piace non è mai piaciuta la trovo una cosa deleteria che allontana moltissimo le persone da una cosa che fondamentalmente trovo molto piacevole, molto amabile e anzi e alla fine sono proprio le cose che amiamo di più e verso le quali sentiamo proprio i sentimenti più forti che da un lato ci sentiamo anche forse più dolorosamente diciamo inclini alla critica insomma diciamo anche le cose forse più aspre più negative però lo facciamo sempre spinti da un sentimento di affetto ecco ed è solamente e puramente questo ciò che mi spinge a questo rant che cominciamo veramente parto da un grande presupposto questo film secondo me è la dimostrazione palese di come sia stata pensata se mai è successo diciamo di come la pianificazione non sia avvenuta in maniera oculata sin dall'episodio 7 si è fatto episodio 7 in una maniera devo dire super rispettosa del fandom e insomma dell'immaginario di Star Wars era un vero e proprio compitino potremmo chiamarlo era tutto giusto tutto bello tutto fatto bene era una nuova speranza era esattamente lo stesso film che va bene però c'erano alcune cose ovviamente modificate adattate reimmaginate che ovviamente non funzionavano come aveva funzionato una nuova speranza insomma era un compitino che rispettava le forme i linguaggi era un compitino che rispettava le forme e i linguaggi e quindi difficilmente poteva fare un disastro totale non poteva generare dei sentimenti troppo aspri nei suoi confronti però ecco era un compitino era qualcosa che se da un lato non poteva generare troppa negatività dall'altro non ti suscitava nemmeno grandi sentimenti era fatto bene ma non aveva questi grandi balzi sia emotivi che da tutti gli altri punti di vista che proprio non so come dire ti catturavano nel profondo e diciamo provare grandissimi sentimenti per questo primo film era difficile in più faceva una cosa che io riconosco in tantissimi se non tutte le produzioni Disney che è la cosa che io proprio non riuscirò mai ad apprezzare non l'ho mai apprezzata nemmeno quando ero piccolo ovvero appiattisce moltissimo alcuni discorsi alcune tematiche in più per non incappare negli errori che erano stati fatti in episodio 1, 2, 3 non era mai eccessivo mai troppo coraggioso e non stravolgeva mai nulla ecco non teneva però conto di due cose non teneva però conto di aspetti molto importanti secondo me da un lato aveva voglia di accontentare il fandom però voleva anche intercettare un pubblico nuovo perché ovviamente Star Wars nasceva come una storia per bambini e ora quei bambini sono cresciuti quindi in questo caso ci troviamo in qualcosa che vuole accontentare un po' grandi e piccini vecchi e giovani e ha cercato di farli in un linguaggio in una maniera un po' nazional popolare quindi per accontentare un po' tutti alla fine è risultato un po' tiepido molto tiepido poi c'è chi l'ho apprezzato molto c'è chi no però insomma non c'è stato sicuramente questa mobilitazione diciamo quantomeno sentimentale nei suoi confronti poi è arrivato episodio 8 e la rotta è cambiata drasticamente io sono stata molto molto arrabbiata nel vederlo anche se gli ho riconosciuto sicuramente alcuni meriti abbiamo introdotto in questo episodio nel secondo episodio con un cambio di regia che è stato non percepibile di più un cambio molto netto si sono aperti tantissimi archi narrativi abbiamo introdotto una serie infinita di personaggi personaggi secondari storyline e questioni che sicuramente hanno portato nell'ampiezza del film nella carica della quantità di cose che sono state messe dentro tanto il livello globale della scala del conflitto accostandolo a quello personale che era un po' secondo me molto vicino anche al tentativo originale di Star Wars si rifletteva tanto sulla trama generale forse però distogliendone un po' l'attenzione per riportarla all'ambito un po' più personale quindi alle storyline singole e ai conflitti interni dei personaggi insomma era un bollirone riuscito meno che fosse ad esempio a me non era piaciuto ho cominciato ad apprezzare molto di più alcuni pezzi rivedendolo però ad esempio nell'ultimo rewatch che abbiamo fatto settimana scorsa per me è stato netto come a metà film mi fossi resa conto nuovamente di quante cose ancora mancavano ed eravamo sulla metà film per farvi un esempio cioè per farvi capire quanta carne è stata messa sul fuoco però insomma riuscito meno che fosse aveva deviato davvero tanto dalle premesse iniziali messe su da J.J. Abrams insomma sembrava concepito in una maniera molto diversa come se il primo episodio cioè l'episodio 7 e l'episodio 8 cioè il secondo fossero proprio troppo troppo diversi tra di loro e questo ti lasciava molto stordito come spettatore che fosse o meno apprezzato l'intenzione ad esempio io ho apprezzato sicuramente il coraggio di un secondo episodio che voleva dare qualcosa in più voleva dare una spinta in avanti deviava molto l'attenzione e questo non è sempre il risultato efficace però più che un timido primo episodio anzi episodio 7 potremmo dire che sicuramente non è il più coraggioso guardileone della storia però insomma la percezione era che dopo aver visto il secondo eravamo molto storditi scene bellissime devo dire però ok e ora ero proprio convinta di cercare di capire che cosa sarebbe successo in questo nuovo episodio e infatti i principali difetti secondo me emergono nella sceneggiatura abbiamo passato il primo film a farci introdurre la storia direi a capire quali fossero insomma le trame le sottotrame principali per poter delineare il percorso che avremmo seguito abbiamo rincontrato i personaggi che più amiamo abbiamo insomma avuto qualche picco di nostalgia ma comunque il focus principale di tutto il nuovo arco narrativo era comunque molto più incentrato su Ray e sulla sua storia che sulle parti solo nostalgia cioè erano dei contorni molto piacevoli poi abbiamo visto il secondo che era come un viaggio sotto sostanze simpatiche che davvero pur avendo avuto un risultato non sempre riuscito un po' sconclusionato alle volte e per certi versi anche confuso comunque ho apprezzato per il coraggio di portare l'asticella verso altri lidi chiaro o meno che fossero comunque almeno piacevoli da vedere ecco quantomeno piacevoli da vedere e ora ci siamo tutti resi conto che è stato tutto pianificato a cazzo di cane perché non c'è altro modo per descrivere la pianificazione di questa trama dal primo al secondo e l'ascesa degli skywalker ne è solo l'ennesima conferma c'erano buchi enormi da riempire questa è la premessa di tutto questo film e vi dico dopo averlo visto non sono certa che poi ci siamo riusciti a riempirli questi buchi anzi secondo me ne abbiamo creati di nuovi c'erano nessi logici piazzati di poi in maniera timida e molto 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 tremolanti scene che erano bellissime ma che non servivano nulla ai fini della trama e che erano puramente funzionali ed estetiche e devo dire che non è che qui sia parecchio meglio la struttura di tutta la prima parte del film è scena spiegazione doverosa stacco scena spiegazione doverosa e altro stacco e così finché non viene praticamente fatto il giro di tutte le questioni un po' aperte ma che alla fine abbiamo deciso di lasciare da parte di non seguire del film precedente insomma diciamo che tutta la narrazione tutti gli archi vengono un po' chiusi col tappabuchi perché in fondo a noi serve mettere un po' una pezza e noi come lo facciamo lo facciamo con una narrazione piena piena zeppa di spiegazioni di circostanza che ci servono perché se no non sappiamo come giustificare ciò che è stato fatto prima e come lo stiamo legando ora perché abbiamo scelto di lasciarlo da parte cioè per me come è stato diretto e le decisioni che sono state prese dal punto di vista della sceneggiatura da come è stato montato impostato eccetera sono problemi abbastanza gravi e che mi fanno risultare soprattutto questo film più che i precedenti due che per quanto io abbia speso parole davvero molto dure ora arriva a lutto a pieno io trovo a questo punto abbastanza insormontabili i problemi di sceneggiatura e di montaggio in questo caso le scelte quanto meno che sono state fatte Star Wars soprattutto la trilogia originale chiaramente nasce come un film di intrattenimento godibile e che poteva raggiungere un pubblico molto ampio attraverso un mezzo che era stato sperimentato poche volte a livello cinematografico in scala così grande eppure la cinematografia risultava super piacevole perché comunque nonostante i mezzi fossero molto limitati era spettacolare e riusciva ad avere una profondità e uno spessore in quelle storie che non era mai banale riuscendo quasi davvero in quello a trovare l'equilibrio nella forza nel riuscire a bilanciare l'intrattenimento e le tematiche ecco forse il più grosso difetto del nuovo corso degli eventi è che questo equilibrio sia andato a perdere io ho percepito questo terzo film come se fosse un tentativo fin troppo esplicito di correggere il tiro rispetto al precedente perché in fondo è stata anche una scelta scellerata scegliere J.J. Abrams per il primo ascoltare ciò che veniva detto le review insomma le critiche che sono state mosse al primo cambiare regista andare su un regista con uno stile e un'impostazione completamente diversa da quella di J.J. Abrams e poi dopo le asprissime critiche al secondo fare i codardi e tornare all'origine cioè questo film è un tentativo di correggere il tiro riportare tutto sulla traiettoria impostata all'inizio perché alcune decisioni pur non essendo estremamente condivisibili ora andavano sistemate e tutto si gioca attorno a un timore reverenziale un tributo continuo ansia paura di fare qualcosa male e alla fine sono caduti in un trappolone dal quale secondo me non sono usciti i vincitori insomma quello che è il risultato di questa trilogia è che per quanto le tematiche siano chiaramente condivisibili apprezzabili e sicuramente molto manifeste non si riesce ad avere un equilibrio abbastanza perfetto tra intrattenimento azione cinematografia dall'altro lato e anche il veicolare messaggi universali non appiattiti nel loro significato e nel loro spessore in più mi chiedevo spesso quanto c'è attesa e quanto c'è carica per questo film io non sono così sicura che fosse davvero così atteso cioè io non mi sento di fare parte di quella sfera che ha un rapporto normale con questa opera perché il mio non è un rapporto normale è un rapporto morboso è un rapporto ossessivo me ne rendo conto però secondo me quello che ho percepito e forse anche dentro di me sarà che ero già partita in maniera molto negativa con zero aspettative quindi comunque ero carica perché sì volevo vederlo ero anche abbastanza emotivamente coinvolta ma perché sapevo che qui ci sarebbero state delle mancanze delle perdite anzi forse che su di me avrebbero pesato la prima è ovviamente la mancanza di Carrie Fisher e quindi la successiva morte di Leia che era l'unica cosa che ovviamente tutti si aspettavano perché non c'è altro modo di concepire questa storia brutalmente perché tanto fino ad ora sono stata molto carina direte allora brutalmente io penso che J.J. Abrams il quale io in realtà voglio molto bene perché ha creato i miei prodotti televisivi preferiti prima su tutti Lost cioè indimenticabile tra l'altro c'è a metà del cast in questo episodio comunque insomma ha usato solo attori con cui ha già lavorato in tutte le sue serie tv peraltro sono tutti in questo film comunque J.J. Abrams insieme a Disney ma anche alla dirigenza abbastanza scellerata di Lucasfilm perché vanno tutti e tre presi in considerazione come anche alla fine Rian Johnson che è parte del carrozzone anche se l'hanno messo da parte rifiutato e crocifisso tutti insomma mi fa quasi tenerezza quest'anno Johnson insomma mi sembra che tutti questi alla fine della fiera siano andati a scuola da Cursed Child ovvero la maledizione dell'erede di Harry Potter da un lato perché questo è un film pieno di supercazzoli giganti viaggi nel tempo energie vitali usati come arma e un po' mettiamo le cose un po' a cazzo perché non sappiamo bene come risolverle insomma è tutto molto telefonato molto prevedibile con soluzioni sinceramente un po' sconcertanti scene chiamate a chilometri di distanza e risoluzioni davvero un po' troppo troppo prevedibili anche banali proprio detto semplicemente cioè le forme e i modi sono quelli giusti tutto è perfetto e mette davvero a proprio agio lo spettatore che sia vecchio che sia un nuovo fan non conta nulla in questo caso ti rende riconoscibile questo mondo ti rende riconoscibile l'atmosfera insomma ha i suoi codici e li rispetta perfettamente sono molto piacevoli i grandi ritorni chiaramente tocca quelle corde emozionali che io davvero volevo che toccasse poi dopo arriviamo anche a questo punto qua insomma viene toccato tutto quello che secondo me era giusto includere in questo episodio ci sono un sacco di tributi citazioni a non finire citazioni a non finire e anche un po' i croccantini premio per lo spettatore perché insomma vedi la scena di Chu che riceve una medaglia cioè insomma non manca nulla però davvero come il primo film era risultato estremamente rispettoso del canone e di ciò che maneggiava cioè si vede che J.J. Abrams conosce molto bene sia il fandom che anche un po' i codici di tutto ciò che ruota attorno all'universo Star Wars ha cercato davvero di essere comunque rispettoso e di non fare insomma quello stacco così forte che era successo nei primi tre film cioè in episodio 1, 2, 3 però tutto risulta molto tiepido anche questa volta nulla che scalda davvero il cuore nonostante ci siano delle scene molto molto cariche dal punto di vista emotivo allora il film si apre forse con una delle scene migliori di tutto il film partiamo già da questa cosa qua rannuncia subito una grandissima rivelazione che lo è e la cinematografia di questa prima scena secondo me è una delle più belle di tutto il film insieme forse alla parte finale a poche altre insomma è anche un grande richiamone a cose molto nostalgiche che sicuramente sono apprezzabili ma insomma una volta che noi abbandoniamo questa prima scena e ci ritroviamo nel quartiere generale nel nuovo quartiere generale della resistenza che ormai è in frantumi è dilagnata è dispersa e qua ci sono enormi pezzi di trama che sono stati scritti montati tagliati e pensati attorno a delle scene cancellate di Carrie Fisher che era evidente che non fossero nate per quelle scene insomma quindi hanno dovuto recuperare del materiale riaggiustarlo e crearci attorno a qualcosa qui iniziano i veri problemi cioè qui proprio le cose iniziano ad esplodere intanto ci ricordiamo che c'è un conflitto generale quindi insomma si sposta tutta la narrazione sul conflitto principale perché insomma lo siamo ricordati che non sono solo le cose conflittuali interne che avvengono ma fondamentalmente c'è una guerra e stanno per distruggere chiunque e in più la insomma resistenza è stata decimata insomma dalla dimensione molto intima del conflitto che secondo me è stata gestita per tanti versi nel secondo in una maniera molto intima molto dilagnante anche molto forte ora ci siamo resi conto che abbiamo lasciato un po' da parte le questioni macroscopiche che fanno poi fluire tutta la trama non solo quella delle storyline singole e le storyline dei singoli personaggi e forse noi avevamo aperto un po' troppe questioni nel secondo che ora vanno semplificate e asciugate ecco JJ Abrams questa cosa l'ha presa un po' troppo alla lettera e passa e trascorre la maggior parte di tutta la prima metà del film cambiando rotta sistemando questioni sistemando questioni e riconfigurando la storia rispetto più la prima storyline che aveva immaginato e asciugando di molto sia la storia che le storie perché deve comunque a un certo punto tirare le fila e raggruppare tutto verso pochi filoni che può seguire il corso del resto del film e insomma a un certo punto asciuga così tanto che ci sono una serie di colpi di scena che sono davvero dolorosamente convenzionali e banali quasi condiscendenti con lo spettatore e insomma la percezione di questo film che deve prendere tagliare rimettere a posto giustificare eliminare coprire buchi è veramente un po' tanto pesante almeno per me lo è stato chiaramente io in tutto ciò parlo per me cioè insomma poi voi mi potrete dire è il migliore di tutta la saga di star wars io alzo le mani non so cosa dirvi per il mio percepito per come l'ho vissuto io era davvero quasi un giustificarsi perenne un tentare davvero di ricucire tagliare ricucire insomma la sensazione è un po' quella che si passa un'oretta a rimettere a posto cose che a jj abrams non erano piaciute storyline aperte che ha voluto chiudere cose che per l'amore del cielo magari potevano non piacere potevano semplificare ne avevamo davvero aperte tante di storyline e tante questioni si erano aperte nel secondo film cioè diciamo che però era una strada condivisibile o meno lo era e questo aspetto questa oretta di taglie cuci sistema tappa così mette davvero tantissimo in luce la scellerata progettazione di questa trilogia e veramente non credo sia tutto implicabile al regista perché non è possibile è implicabile a una serie di attori attori nel senso agenti di questo di questo circo no insomma non tanto agli attori stessi che non c'entrano nulla però chi ha creato questa trilogia l'ha pianificata in una maniera secondo me non tanto lungimirante ma sempre attendendo un po' il risponso che in certi casi non è mai l'operazione migliore da fare diciamo è molto evidente anche che JJ Abrams si sia tolto un bel po' di sassolini cioè proprio mancava solo che li tirasse contro lo schermo a quel punto capito che ci sei rimasto male perché ti hanno lasciato a casa nel secondo episodio però potevamo farla un po' meno percepibile potevamo lasciare quasi andare queste cose rispetto a cercare per forza di dare una spiegazione per tutto insomma sicuramente non è un capolavoro di scrittura l'ascesa di Skywalker perché tra i compromessi che vuole raggiungere e le revisioni che ha obbligato a fare perché a quanto pare è così che ha voluto impostare la propria narrazione e un po' per il cambio di rotta abbastanza drastico è tutto molto palese cioè diciamo che non sa benissimo come orientarsi sembra un po' confuso a volte e quindi insomma è un po' troppo palese questo insomma sto riaggiustando tutto e vi riporto dove dico io insomma il film poi anche fa una cosa che io trovo molto spiacevole ovvero prende spesso in giro lo spettatore continuamente crea scene che alterano lo status quo grandi rivelazioni scene molto pesanti eccetera e poi poco dopo si rimangia subito la parola mi riporta immediatamente indietro scherzava insomma quindi fa la cosa magari che ti lascia un po' stranito però poi non era vero ed è palese che non fosse effettivamente quella la conclusione ci sono alcune scene tra l'altro dove la componente emotiva è molto alta che però vengono nettamente interrotte da digressioni spiegoni insomma esposizioni di passati eventi e di cose che vanno spiegate e rispiegate perché non hanno un nesso logico con ciò che stava accadendo ciò che c'era stato raccontato fino a quel momento insomma altrimenti questi aggiustamenti non reggono a mio parere e mi dispiace perché in realtà trovo che il personaggio direi sia un personaggio con del grandissimo potenziale e credo che il suo sia forse il personaggio con il risultato peggiore all'interno di questo film proprio perché Rey non ha più un vero e proprio arco narrativo cioè questa fondamentalmente cosa che era più bilanciata magari nella prima trilogia ma che comunque era una trilogia improntata su Luke sulla storia di Luke e poi ciò che ne fa da contorno in questo caso era un po' aveva gli stessi mezzi è la storia comunque di Rey Rey con i compagni di avventura Rey anche con questo grande conflitto con Kylo Ren che è un personaggio molto emblematico insomma la sceneggiatura in questo caso la penalizza molto perché non la costringe mai a fare scelte difficili e soprattutto a convivere con le conseguenze dei propri errori cosa che invece avevamo visto addirittura anche in episodio 1, 2, 3 tutta la risoluzione poggia sul fatto che lei rifiuti di insomma arrendersi e piegarsi alla discendenza al sangue come il sangue non sia ciò che determina chi sei non che sia un brutto tema da trattare il problema che non viene trattato granché in questo caso non c'è spessore nella discussione Rey non viene mai messa di fronte a delle difficoltà vere e proprie perché nelle scene dove effettivamente l'errore può portarla a uno sbilanciamento no scusate scherzavamo era finto alla fine no tranquilli va bene lo stesso non c'è conflitto vero e proprio quando la situazione non ti mette davvero in conflitto con te stessa anche cioè anche la percezione che noi abbiamo di questo dualismo tra lei e Kylo Ren e comunque i loro due poteri mentre secondo me nel secondo episodio era forse una delle cose più interessanti era qualcosa di invasivo era qualcosa che destabilizzava il personaggio ecco qua no in realtà capiamo che questo dualismo non conta nulla alla fine conta quel poco giusto che serve per arrivare lì ma poi boh mi sono chiesta molte volte da ieri sera quindi questo dualismo effettivamente era così decisivo per arrivare a questa conclusione secondo me no la mia risposta è no poi magari sì per mille ragioni sottile che però secondo me a livello di sceneggiatura non vediamo o non reggono abbastanza diciamo che è una risoluzione molto semplice che sarebbe stato molto più interessante invece vedere esplorato ed esplosa come come tematica insomma un po' la sensazione che ho avuto al di là della storia di Ray ma che coinvolge moltissimo Ray Finn e Po quando sono insieme che sono personaggi dediti all'azione chiaramente che vengono spostati da un luogo all'altro continuamente dove serve alla trama e quando la trama lo richiede ma senza mai avere in realtà un arco narrativo che segue anche gli spostamenti all'interno dei paesaggi e non lo so l'ho trovato davvero anche e anche le dinamiche di gruppo non riescono mai ad avere un'evoluzione che già noi non conoscevamo sono un gruppo di amici sicuramente che si è creato in mezzo a una difficoltà molto grande e diciamo le dinamiche tra loro sono sempre le stesse trovo comunque estremamente dolce ed estremamente carina il fatto che chube si sia davvero tantissimo legato a rei è una cosa che per me è molto commovente la trovo davvero una delle cose forse più carine di tutta questa trilogia il fatto che chube riesca a individuare in rei qualcosa a cui affezionarsi per me è molto dolce cioè sono banale però l'ho trovata molto dolce oggi sono anche vestita da chubek poi insomma io comunque adesso chiariamo io voglio la giustificazione firmata da entrambi i genitori per chiunque abbia pensato di non fare mettere insieme fine po cioè è l'unica relazione che davvero mi avrebbe fatto dire oh ci sta in tutta questa saga perché va bene è una bella amicizia però io anche volendoci vedere qualcosa di più l'avrei vista perfetta poi vabbè sono cose che non metteremo mai perché Disney abbiamo già messo un bacio lesbo a un certo punto quindi mai più e boh non so per me era una relazione paerese era anche molto facile da trattare secondo me sarebbe stato molto molto interessante esplorare però non lo facciamo perché tanto dobbiamo pensare alle altre cose vabbè in realtà poi io ho trovato molto carine le interazioni tra Po e Zori cioè il nuovo personaggio che viene introdotto qua perché mi hanno fatto ridere anche la scena proprio finale tra loro due le battute saranno proprio di bassissima lega io ho riso sempre però poi mi sono chiesta ma l'utilità di un personaggio come Zori? cioè in generale i personaggi secondari in questo in questo film hanno davvero davvero poco spazio e poca intenzione cioè mentre ad esempio Lando lo trovo un piacevole ritorno che ci sta è la quota fandom è la quota nostalgia e Lando nella scena con Tube chiaramente richiama tante cose è una super citazione l'ho trovato molto piacere però insomma Lando lo conosciamo già ecco questi nuovi personaggi questi personaggi secondari secondo me male cioè vi faccio un altro esempio i cavalieri di Ren chiamati nel trailer con queste bellissime coreografie da Power Ranger insomma però alla fine io mi sono chiesta tutto il tempo a che cosa sono serviti perché hanno pochissimo spazio e nessun nessuno spessore nella narrazione cioè quale minaccia spaventosissima hanno trasmesso allo spettatore nessuna perché a parte un balletto finale da BTS boh cioè non ho capito cosa volevano significare non che non lo sappia a parte però se uno vede il film e vede solo il film il cavaliere di Ren questa grande minaccia questo grande richiamo non può percepire che cosa sono e a cosa servono l'ho trovati inutili gli è andata una battuta tristissima tra l'altro e basta ma loro come anche tutti i personaggi secondari di questo film penso a Zori come vi dicevo prima manca a Yanna Rozzcanata e la stessa Rose che invece nel secondo volume aveva avuto il suo spazio ecco qua a parte un po' Lando che ci sta tutti davvero devono un po' giustificare la propria esistenza e il loro inserimento all'interno della trama che è molto funzionale sicuramente al finale però sì insomma non non ok poi arrivo al punto non so com'è ok parliamo della Raylo allora io sono una strenua strenua hater della Raylo cioè io penso che sia una delle cose più fastidiose che siano state inserite in tutta la nuova trilogia tutto questo hint alla Raylo dal primo film a me ha dato sempre molto fastidio per fortuna però devo dire che in questo terzo volume è stato più tollerabile che nel secondo però devo dire che nella scena clou c'era veramente da alzarsi dal cinema e telare perché find the logic allora ho trovato come vi dicevo anche prima molto più toccante il legame tra Ray e Ben perché era evidente che entrambi fossero smarriti confusi e avessero delle questioni risolte e che forse solo loro due a un certo punto avrebbero trovato il modo di risolvere le questioni personali l'uno dell'altro darsi una mano davvero l'ho trovato più interessante più toccante nel secondo ecco lì secondo me si percepiva maggiormente il conflitto aveva anche un senso nella storia di per sé questa dualità tra questi due personaggi questo richiamarsi a vicenda questo cercare anche di sbrogliare un po' perché queste due persone sono connesse perché la forza scorre in entrambi e li connette ecco qui invece interrompe e basta cioè questo non serve assolutamente a nulla l'esplorazione del loro legame in questo film e in più trova davvero una risoluzione secondo me molto semplice che fa vedere ancora di più questo legame come era già stato sicuramente anche nel secondo non è che non fosse così anzi era la cosa che a me è più infastidiva quindi insomma banalizza tutto questo legame come se fosse un grande parallelismo con la tensione sessuale insomma non che sia di per sé qualcosa di sbagliato figuriamoci anzi non lo diremo mai su questo canale sicuramente però diciamo che la risoluzione di un qualcosa secondo me di così drammatico così viscerale profondo è qualcosa davvero che crea continuamente conflitto interno ad entrambi i personaggi che gli fa rivalutare tutto ciò che sono e ciò in cui credono ecco se la risoluzione vabbè mandiamola in vacca è tutto dovuto al grande amore non lo so io già lo trovavo banale se fosse stata quella la risoluzione nel secondo per me questo se pur fugace tentativo di risoluzione finale per me è no cioè è vero che il tema sorella e fratello era già stato esplorato nella trilogia originale però in questo caso dove il legame è davvero ancora più forte è ancora più sentito che secondo me in lei e Luke perché questi due si vedono e si parlano nella testa uno dell'altro non lo so secondo me sarebbe stato sicuramente più interessante intendere questo legame anche come un'ulteriore dimostrazione che è un po' il tema anche di tutto questo film di come alla fine la famiglia sia ciò che ti scegli cioè insomma che per entrambi che hanno comunque un passato molto pesante alle spalle delle scelte molto complesse nelle loro vite ecco avrei trovato questa risoluzione molto più interessante molto meno piatta e banale che mandare tutto all'aria e dire ok è tutto dovuto al grande amore la trovo proprio una risoluzione basica cioè ok va bene cioè senza per forza puntare sulle implicazioni sessuali e non solo di tutte le loro scene su questi grandi non so no non ha senso tra l'altro cioè non ha minimamente senso vabbè poi vabbè davvero spezzo una lancia a favore di Adam Driver che a me piace tanto come attore però l'ho trovato molto sottotono nei primi due ma non per colpa sua forse un po' anche per il personaggio che interpreta ma soprattutto per la scrittura ecco in questo caso secondo me lui fa un lavoro eccellente pur avendo in mano delle battute un po' cringe ed è veramente infarcito di sia scene da un lato ma soprattutto davvero di dialoghi molto anticlimatici e tutti molto meh ecco però diciamo che lui riesce comunque a portare a casa qualcosa di dignitoso e questo secondo me gli va riconosciuto a pieno perché è molto molto bravo soprattutto in questo film ha delle scene molto interessanti ecco purtroppo la sceneggiatura e i dialoghi non lo premiano ed è un peccato e che lo dica io che ho odiato il personaggio di Kylo Ren ecco perché non è mai stata chiara la sua intenzione non è mai stato palesemente qualcosa era una massa informe e secondo me non così ben delineata o comunque delineata in una maniera un po' facilotte banale mentre sarebbe stato interessante vederne altri aspetti che comunque mettevano anche il non so come dire lo spettatore in conflitto con i sentimenti da provare per Kylo Ren alla fine è sembrato un po' un poveretto sì ok incapace di emulare Vader però senza anche quell'intenzione che comunque ci fa provare un certo tipo di pietà per lui questo sentimento conflittuale ecco non c'è mai quella parte sembra solo un poveretto che ci prova in maniera neanche troppo convinta ecco e non so però devo dire che in questo film l'ho trovato meglio cioè meglio quella risoluzione del personaggio ecco tranne il finale allora mi tengo qualche cosina spoiler per il finale giusto che perché così insomma fino a qua più o meno ci possono arrivare tutti ma anche se comunque insomma possiamo anche mandare in bacche parlare di tutte le robe spoiler diciamo che in generale il tono di questo film mi è sembrato molto semplice molto lineare molto insomma un film di supereroi come ci ha abituato Disney fino adesso simile a tutti gli altri mondi che ha già creato come i miei amatissimi Avengers ovviamente scherzo io non supporto l'MCU cioè le idee di fondo di queste tematiche che tratta in realtà sono molto interessanti sono anche parte proprio stessa dell'ecosistema di Star Wars sconfiggere la paura dentro di noi sicuramente il tema portante di tutto superare la paura e anche accettare i lati più oscuri insomma anche il fatto di accettare che abbiamo sicuramente un lato più oscuro più cupo più malvagio probabilmente però dove sempre facciamo prevalere la parte migliore di noi o comunque cerchiamo di affidarci a un noi stesso migliore proviamo ad esserlo è sicuramente la colonna portante di tutta la saga dal primo all'ultimo episodio di Star Wars che la vera identità e la famiglia stessa non siano qualcosa di determinato dal sangue ma che siano invece qualcosa che emerge tramite le nostre scelte il nostro cuore ciò che sentiamo i nostri sentimenti insomma grazie alle nostre capacità e anche tantissimo grazie alla nostra volontà e che infine forse per chiudere il cerchio il gioco di squadra l'aiuto reciproco l'amicizia soprattutto siano valori fondanti e che quel che conta fondamentalmente è avere fede in queste persone che sono accanto a noi e che insieme si è meglio che da soli e riconoscere quanto valore ci può dare anche come persone singole il non sentirsi più soli e quanto valore noi possiamo dare all'amicizia perché ci arricchisce ci fa sentire meno soli e quanto grande è il potere che ha questa sensazione ebbene tutto questo c'è fino alla nausa fino a che non vi esce dagli occhi in questo film reiterato 300 milioni di volte ok avevamo chiare queste tematiche e sono sempre quelle sono sempre quelle ripetute all'infinito cioè reiterato con una frequenza quasi da spot natalizio che accendi la tv e lo vedi accendi youtube e lo vedi cambi canale e c'è anche lì e non voglio sminuire questi concetti perché in realtà sono concetti che apprezzo tantissimo e che sono parte del motivo per cui io amo star wars che sia qualcosa che vada molto contro il determinismo ma che comunque continua a sostenere il fatto che siamo noi a scegliere la nostra strada possiamo scegliere anche da che lato stare però devo dire che in questo caso sono davvero molto semplici molto lineari senza nessun tipo di sfumatura e reiterati all'infinito cioè quando parlo di nessuna sfumatura è perché secondo me non c'è complessità e conflittualità in questi sentimenti in questi valori nel senso che non spiega mai e non mostra mai questa nuova trilogia almeno se non in parte molto minima e in pochissimi aspetti quanto sia difficile far percepire allo spettatore la difficoltà di questo processo Ray per dire non sbaglia mai perché quando lo fa poi tutto si sistema quindi è facile rimanere dal lato della luce quando alla fine non hai nulla che ti faccia veramente mettere in discussione tutto cosa che invece era riuscita sicuramente ad Anakin e cosa che sicuramente era riuscita nella figura di Luke Luke era molto più in conflitto con tante cose che provava e tante questioni familiari a quel punto è molto più interessante il conflitto di Kylo Ren perché è un conflitto che quantomeno è percepibile è qualcosa che comunque per quanto possa aver compiuto delle scelte sbagliate non condivisibili è qualcosa che ti mette di fronte alla difficoltà nella scelta cioè in questo film Kylo Ren si riprende un po' anche se io non credo tanto nella redenzione che tra l'altro l'unica redenzione in cui credo è quella di Darth Vader e quindi l'avevamo già vista non c'era bisogno di darcene un'altra però insomma è Disney quindi ce lo aspettiamo cioè che poi anche lì se la morale deve essere che la redenzione avviene perché c'è l'amore è veramente non so come dire deprimente banalizzare totalmente un concetto secondo me molto alto come quello della redenzione perché insomma ci si rende conto che non siamo soli nel vivere questo conflitto ecco Vader lo fa per una scelta che gli viene messa sotto gli occhi cose che non aveva visto e strumenti che non aveva potuto immaginare e nel riscoprire che in realtà ciò che l'aveva portato ad essere Vader e ciò che l'aveva portato ad essere parte del lato scuro non era un piano completo perché aveva lasciato fuori un pezzo importante cioè i propri figli e soprattutto una persona come Luke ecco qua cioè alla fine il conflitto di Kylo Ren si risolve perché alla fine c'è l'amore cioè la causa scatenante se deve essere quello boh mi fa dire di nuovo che è banale che è piatto che è semplice troppo è qualcosa di straprevedibile e che cosa aggiunge alla fine a tutto il discorso che sta portando un po' avanti questa serie cioè l'amore lo avevamo visto con Anakin e Padme e quello era qualcosa che effettivamente creava conflitto qua oh la risoluzione è banale cioè tutti i messaggi sono davvero molto semplici molto piatti molto prevedibili un mondo dimensionale non viene esplorato va un po' cioè va un po' in controtendenza va un po' in controtendenza con quello che era stato invece cioè va un po' in controtendenza con ciò che erano le premesse iniziali di tutta la saga cioè questi conflitti interiori ed esteriori che avevamo vissuto in una maniera tutt'altro che lineare tutt'altro che semplice ok ora devo fare però qualche spoiler quindi metto una premessa se non l'avete visto e forse già finora qualche spoiler vi è arrivato però direi di parlare delle ultime cose che secondo me insomma emergono da tutto questo mio delirante rant contro questo episodio cioè allora partiamo dalla questione risoluzione della storia direi c'erano 4-5 teorie diciamo plausibili non so quanto più plausibili di questo cioè che lei sia la nipote di Palpatine cioè Palpatine viene tirato fuori dal cilindro perché nel trailer avevamo messo la risata ma se no non avrebbe avuto assolutamente il minimo senso e non che non fosse una linea narrativa non esplorata perché comunque sia Palpatine che Malachor si vedono in Clone Wars e in Rebels però ecco questa è una risoluzione che non ha dei presupposti e viene cacciata lì ok quindi ah questo è dove arriviamo ok quali erano i segnali che mi avrebbero fatto arrivare lì io non ne sono sicura anche perché a questo punto Snoke abbiamo visto per due episodi e a questo punto probabilmente c'era necessità già di introdurre la percezione della minaccia reale cosa che noi non avevamo assolutamente avuto a mio parere cioè vi dico solo che questa anche risoluzione del fatto che alla fine il conflitto direi sia riconducibile alla discendenza dal Palpatine sinceramente lo trovo molto forzato e non so vi dico solo che ho un po' rivalutato i Midi Chlorian come risoluzione frettolosa e un po' cazzo di cane io la butto lì cioè a questo punto mi sembra che valga tutto cioè anche il fatto proprio stesso che ci sia Palpatine cioè questo riportare in vita mi sembra una soluzione di quelle dove non ho davvero altre alternative perché non ne trovo ho pochi strumenti nel mio cilindro i conigli sono finiti cioè io poi tra l'altro amo Palpatine trovo che sia uno dei cattivi meglio riusciti della storia perché effettivamente è la malvagità stessa perché Vader era sicuramente l'antagonista della prima trilogia ma il vero cattivo la vera essenza del male era Palpatine era colui che tirava i fili di tutto e andava sconfitto ed era impossibile da sconfiggere ecco lo trovo un ottimo cattivo però questa sua ricomparsa segna ancora in maniera più netta a parte che comunque l'unica cosa interessante che trovo è che comunque che Palpatine faccia parte di tutte e tre le trilogie ok va bene chiaro però il fatto che alla fine non si sia trovata un'altra soluzione plausibile ma che questa sia l'unica che è venuta in mente agli autori l'unica plausibile non lo so mi sottolinea davvero molto come forse tornare alle soluzioni del passato sia l'unico espediente perché non si hanno soluzioni nel presente non si abbiano alternative altrettanto valide infatti una delle critiche maggiori che è stata mossa tutta questa trilogia è che si sentiva la mancanza di un vero e proprio cattivo perché infatti non c'era stato fino ad ora quindi andiamo a Palpatine ok adesso vi dico l'ultima cosa che è il punto più doloroso ovvero la morte di Leia allora io attendevo questo momento in maniera molto carica devo dire perché è forse la cosa che mi ha spinto di più andare al cinema e davvero penso che questo fosse un momento molto solenne ero pronta veramente a sputare anche il fegato per quanto avrei potuto piangere perché la morte della mia sole unica principessa è l'icona che più di tutte mi ha formato mi ha ispirato mi ha incoraggiato e ve lo giuro che tuttora se ci penso io continuo a non accettare questa mancanza di Carrie Fisher che purtroppo ci ha lasciato troppo presto e non si è mai sentito così tanto la mancanza di Leia penso che sia il buco più enorme di tutto questo film una Leia che non c'era e che è stata ricostruita a pezzi che non avevano senso lei è la principessa che esce in maniera sempre tenace che è incrollabile granitica nelle proprie convinzioni e che è disposta al sacrificio soprattutto personale per ottenere un bene più grande che non ha paura di sacrificare se stessa la propria intimità la propria sfera intima per ciò in cui crede e lei ci crede in una maniera così convinta e così irremovibile che niente spegnerà il suo fuoco e di certo non lo spegnerà la sua morte io capisco la difficoltà perché so che è stato difficilissimo girare una scena senza Carrie Fisher soprattutto una scena così importante come l'addio alla nostra principessa si è scelto di farlo utilizzando solo scene tagliate e insomma scartate dagli episodi precedenti per non utilizzare la CGI però la verità è che per quanto io capisca tutte le difficoltà e davvero sia doloroso anche parlarne però penso che sia una delle scene più buttate via di questa trilogia soprattutto di tutto l'arco narrativo di Star Wars questo doveva essere un momento così solenne da strapparti il cuore dal petto perché il risultato è estremamente frettoloso allora io ho amato il significato della sua morte l'ho trovato molto intenso e giustissimo perché è estremamente Leia ciò che lei sceglie di fare Leia si sacrifica in Extremis per salvare il proprio figlio con la convinzione che solo questo gesto che le costerà la vita potrà riuscire a redimere e aiutare Kylo Ren a tornare ben solo cioè questo secondo me rappresenta l'essenza stessa di Leia ciò che lei è sempre stato ciò che lei è sempre stata disposta a tutto per un bene superiore per il bene della causa per portare avanti ciò in cui crede e addirittura morirne ecco e sebbene il significato che si è voluto dare a questa scena lo trovo giustissimo trovo la forma insufficiente sotto ogni punto di vista la sceneggiatura di questa parte ha delle lacune terribili è veramente quasi doloroso parlarne non solo per ciò che succede ma perché io sono arrivata a quel momento e non avevo capito cioè ho capito perché era palese che dovesse succedere no? è estremamente frettoloso arriviamo alla morte senza rendercene conto e probabilmente nemmeno abbiamo capito perché sia necessario quello o perché arriviamo lì in quel punto che non c'erano state avvisaglie tra l'altro in un contesto dove i ribelli sono in una situazione tragica e disastrosa e chiaramente vedersi mancare il generale organa è un problema e quindi lo spettatore neanche comprende bene il meccanismo del tutto non è così lineare non c'è un vero e proprio raccordo con la scena prima cioè non è impostato in maniera secondo me sufficiente dal punto di vista cinematografico ripeto capisco tutte le difficoltà capisco che manca l'attrice principale si è scelto di non usare la CGI e questa è una scelta che purtroppo però fa risentire tantissimo la sceneggiatura di questa mancanza perché è una scelta che però forse nel risultato sarebbe stata un attimo da rivedere in pratica noi sappiamo questo c'è una scena di difficoltà di Ray che sta combattendo noi senza ben capire perché sia necessario l'intervento di qualcuno di esterno ma proprio buttato lì capiamo che lei ha deciso di sacrificarsi perché quello è l'unico modo per far redimere Ben e tre ve lo giuro tre inquadrature dopo dopo aver fatto questo gesto e aver detto Ben lei a organa è morta non lo so sono veramente molto arrabbiata e molto delusa per questa scena perché manca di tutto manca di tensione emotiva manca di preparazione manca proprio di non so come dire manca quella parte che fa crescere dentro lo spettatore la tensione in una maniera così estrema che senti tutto il peso di quello che significa la morte del generale organa è impercettibile è ininfluente manca proprio la comprensione il tempo di comprendere proprio perché avviene in quattro inquadrature tutto questo un gesto così estrema in un momento così difficile per la resistenza cioè è un momento così disperato per tutti e questo sacrificio è molto frettoloso sicuramente comprensibile in linea di massima ciò che è stato fatto però anche questa volta è tutto molto contratto asciugato frettoloso banale e semplice in ogni caso davvero che la forza sia sempre con noi per tutto ciò che la nostra principessa ci ha insegnato comunque io sono uscita distrutta da questa scena cioè lo dico perché tuttora mi viene il magone a pensarci però è anche la scena che mi ha fatto più rabbia di tutta questa questo film capisco tutta la difficoltà e anzi me lo ricordo benissimo il momento in cui ho saputo che era morta Carrie Fisher e non lo so avrei probabilmente optato per scelte un po' più di compromesso su alcune cose si è sentita tantissimo la sua mancanza in questo film più di ogni cosa più di una trama scritta decentemente una sceneggiatura decente la mancanza di Leia contando tutto il peso che aveva avuto sia nel secondo che comunque nell'impostazione di questa storia e in più secondo me è stato veramente poco dignitoso ma forse nemmeno dignitoso perché veramente la scena rappresenta tutto ciò che lei sicuramente fa e avrebbe fatto e ha sempre fatto però l'ho trovata sono arrabbiatissima per quella scena ve lo giuro tuttora ci sono cioè a ripensarci ci rimango malissimo basta io direi che dopo questa non ho sicuramente detto tutto ho detto a grandi linee quelle che sono insomma un po' le mie impressioni in generale di quest'ultimo film ma secondo me quest'ultimo film è fondamentalmente da inserire in un arco di tre film che personalmente secondo me sono stati gestiti troppo male da chi ha impostato questa trilogia ha sicuramente dei momenti cinematografinicamente molto interessanti un arco narrativo che ha del potenziale ma che non riesce mai a essere effettivamente decisivo comunque detto ciò parlare di Star Wars e parlare insomma dell'arco narrativo degli Skywalker è più come parlare di famiglia e di amici che di un prodotto cinematografico di per sé perché fondamentalmente insomma con la famiglia tu ci litighi con gli amici tu ci litighi dici cose pesantissime ma è anche il posto dove torni per cercare sicurezza è anche quello dove fondamentalmente hai la possibilità di poter dire certe cose perché ti senti a casa e per me Star Wars è casa e lo sarà sempre mi dispiace molto che questo sia purtroppo la fine del ciclo degli Skywalker perché lo trovo un finale molto poco dignitoso mi dispiace molto perché si è ripetuto un errore che sicuramente si era già visto nella trilogia 1,2,3 in questo caso anche se con delle dinamiche molto diverse però con una pianificazione molto più debole molto meno lucida di alcuni aspetti che secondo me rendono invece Star Wars un prodotto adattabile ad ogni era ad ogni bambino e non solo ai bambini ecco invece ora si adottano sempre toni molto soffici molto rassicuranti tutto va bene tutto finirà bene no e comunque davvero penso di aver pianto in maniera molto immotivata tantissimo durante il film o comunque sono arrivata al cinema molto carica dal punto di vista emotivo perché i trailer sono stati fatti apposta maledetti comunque sentire parlare C3PO di amicizia è stata secondo me una scelta molto giusta sono fierissima del nostro guerriero e pilota Wookie Chewbacca perché è stato uno delle colonne portanti anche purtroppo di questo film inconsapevolmente insomma mi dispiace davvero tanto che sia questo il film che mette il punto a questa storia lo trovo ingiusto anche perché la storia direi di per sé secondo me poteva essere molto interessante poteva avere un grandissimo potenziale nulla togliendo a ciò che era l'effetto nostalgia ma riuscendo ad aggiungere qualcosa di nuovo e più interessante ecco qua è mancato molto la pianificazione sono state fatte delle scelte davvero secondo me scellerate quindi insomma basta perché ho sprolocchiato fin troppo insomma spero sia chiaro ciò che penso insomma vi rinnovo l'invito a discuterne se vi va giù nei commenti però in maniera molto rispettosa visto che insomma queste sono le mie impressioni questo è a grandi linee ciò che insomma in maniera molto sconclusionata ho messo giù negli appunti ma nei prossimi giorni mi verrà in mente altro l'ho visto solo ieri sera ne sono uscita emotivamente distrutta stanchissima e insomma questo è quanto fatemi sapere se lo avete visto se lo andrete a vedere cosa ne pensate insomma se lo andrete a vedere magari questo video non lo dovreste vedere niente direi che per ora è tutto ci vediamo al prossimo video ciao